SIGLA Vuoi un ruolo decisivo? State pronti! Andiamo! Rischi la vita per un mondo migliore. Ma certe cose non te le aspetti davvero. La vigilanza è in anticipo. Sei con me! Oggi il reparto combattente d'élite ha tradito la nostra nazione. Su mio ordine, i G.I. Joe sono stati totalmente eliminati. Sono tutti morti. Era una trappola fin dall'inizio. Rimaniamo solo noi. Muoviamoci. Il mondo non si salva da solo. Matt e G.I. Joe Dobbiamo pensare di non poterci fidare di nessuno Però c'è un uomo Stai bene? Sì, tu stai bene? Ho il colesterolo alto